Oggi vi portiamo a visionare un meraviglioso appartamento a Mondragone con cortile esclusivo a pochi passi dal mare. Seguitici! L'appartamento ha tre ingressi, due indipendenti da strada, uno direttamente dall'androne del condominio. E abbiamo una cucina abitabile, molto spaziosa, che dà su un terrazzo per cene e stile. Ampio disimpegno. Dall'ampio disimpegno si arriva direttamente nel salone. Nel salone troviamo l'ingresso che dà direttamente sull'androne condominiale. L'appartamento è composto poi da un'ampia cameretta, dal bagno con vasca e da una camera matrimoniale dotata di terrazzo esclusivo. Questo splendido terrazzo è collegato direttamente al cortile, che è interamente pavimentato e dotato di ternostruttura. Terrazzo che dà direttamente sul terzo accesso esclusivo, pedonale. Oggi vi abbiamo portato a visionare questa meravigliosa soluzione a pochi metri dal mare. Soluzione composta da ampia cucina disimpegno, salone e due camere da letto con bagno, ma soprattutto con tanti spazi esclusivi esterni a soli 50 metri dal mare. Mi raccomando, per qualsiasi informazione non esitate a contattarci. La MQ2 Immobiliare è a vostra completa disposizione. E come diciamo sempre noi, perché sognatela? Venite a viverla!